L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo, diceva Nelson Mandela, e la scuola a ruolo fondamentale può incidere in modo significativo sulla formazione delle generazioni future. Ma sono molteplici le criticità da risolvere che rischiano di penalizzare fortemente questo settore strategico della società. In Abruzzo i sindacati tornano a lanciare appelli al governo e alla regione dopo gli ultimi dati comunicati dall'ufficio scolastico regionale. Per l'anno 2023-2024 sono previsti 913 alunni meno. L'anno scorso la perdita era stata di 2.723. In circa 7-10 anni si sono persi oltre 16.000 studenti nelle scuole pubbliche abruzzesi a causa della denatalità e dello spopolamento, soprattutto nelle aree interne. Però le aule continuano ad essere affollate e gli organici, gli insegnanti e personale ATA insufficienti. Evidenziano il segretario generale della CISL Scuola Abruzzo e Molise Davide Desiati e la componente della segreteria regionale della FLC CISL Scuola Abruzzo e Molise Augusta Marconi. Cosa chiedete? Politica locale al nostro governatore di fare tutto il possibile per salvaguardare. Noi adesso abbiamo con l'articolo 99 della finanziaria un ipotetico di pensionamento a 900 alunni per istituzione scolastica. Questo sarebbe di fatto impossibile nelle nostre aree interne e nelle nostre zone montane. Sarebbe un ulteriore danno per queste aree. Quindi un impegno forte in questo senso e poi l'altra criticità è sul personale ATA, soprattutto sul personale amministrativo e sui collaboratori scolastici. Avremmo bisogno di un adeguamento di queste risorse umane perché sono scarse nelle scuole. Appunto perché c'è una diminuzione della popolazione scolastica si vorrebbero avere classi con meno studenti e quindi aumentare la qualità della formazione e avere finalmente classi di 20 ragazzi. Invece si continua a tagliare, si continuano a mantenere classi molto numerose, soprattutto nelle fasce di età che sono quelle in cui l'orientamento scolastico è sempre più difficile, dove bisognerebbe seguire di più ragazzi e dove data la tipicità dell'adolescenza e della scuola avremo bisogno di avere meno ragazzi per classe, più docenti e anche più figure di supporto.